e no sta ridendo per una roba che ha fatto comunque c'è un ragazzo e sto facendo stiamo facendo pokemon go qui siamo da me qui siamo all'entrata del condominio di kriz ragazzi siamo su pokemon bro go ciao a tutti io sono mister l e qui compagnia mia c'è ikriz e state registrando il visuale di ikriz ragazzi che sta catturando un pokemon nel recinto di casa sua guardate che mira con le pokemon e vabbè ma le mancate per poco però dai questi piccoli ne avranno così miliardi ok ragazzi speriamo che la registrazione audio vada fuori bene quindi siamo andati in giro per la città per 40 minuti abbiamo fatta il contatto con un tipo che ikriz conosceva e ci ha rallentato tipo lui conosceva io stato un po' indietro lui è andato avanti che state facendo qua un minuto di silenzio per ragionarci ikriz non dire boiate li dico pokemon go o li dico che stiamo catteggiando 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 e qua potete anche spiare là ecco esatto siamo vicino al mare ragazzi guardate come sono fatti bene i pokestop si guardate è vicino a casa mia è un gioco per bambini eh infatti beh un po' meno aspettate che appoggio il telefono che mi sembra eh cioè guardate guardate mentre vado avanti tutto fiero sta andando a casa di mister e la ragazza è più o meno a 100 metri distanti si è camminata di un minuto o due eh preso 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 vai si apparte che un l'audio l'abbiamo registrato dopo perché altrimenti si sentiva tutto il casino della pila pinseed perché adesso hai fatto uno scattone scusa è perché lui scatta lui sta fermo dal momento in cui è entrato il pokemon al momento in cui l'ho catturato sta andando a casa di mister L ragazzi vai ecco avvicino vai più o meno no non ci sei ancora comunque prima stava ridendo perché una volta era venuto a casa mia ed è andato a prendere un bicchiere d'acqua è entrato perché dovevo fare la voce di papaius ragazzi è entrato col gesto allargando il braccio e mi spaccava mi bruciava cioè quindi gli ho detto che se io per casa avessi dovuto rovesciare l'acqua facendo un gesto tipo come se dovesse benedire i bambini fosse un prete mi avrei distrutto il contattore il computer l'APS con i due joystick la tv tutti quanti in un colpo solo con un solo bicchiere cosa neanche il telefono che era vicino al contattore distruzione totale e mi sporcava il caletto ah qua c'era ma per romantiche credo uno ah si che c'è un tipo ragazzi che stanno già facendo eh cazzeggiamo non diciamo un pokemon go sennò polizia eh qui ecco qua combattendo la palestra e sto guardo è un po' cazzuto un po' solo un po' poi me la frega ah si no spoiler è uno spoiler questo si inizia a combattere no per me non ha fermato il personaggio no allora sono tutti ah qua qua è messo come transessuale qua termola solere eh lui l'ha chiamata perché c'è scritto solere usa fulmina si lo so è per questo che l'ho messo guardate che bello sistema combattivo dove devi cliccare a caso eh qua non so perché andavo così perché stai continuando a subire danni se stai attaccando lì e forse perché mi attacca lui no complimenti per la rotta guarda che non sei neanche buono tenere l'inquadratura ferma eh vabbè se tengo l'inquadratura ferma come oddio ma ti ha quasi one shotato eh perché ha fatto avvicinami ai cuffie lezzo eh beh tutti lontani e non tenerlo come se fosse un dessert e come cazzo lo tengo ecco qua qua l'ho battuto o non l'ho battuto scusa ma se ne so chi non ha colpire viva ah hai vinto bravo no non ho vinto ce n'è un altro adesso ah volevi volevi eh questo qua mi sa che me la dà ma me la date ti sta facendo soffrire pian piano il pokemon eh vabbè però io intanto ma stanno combattendo io vedo un pipistallo che va avanti e indietro un altro pokemon va avanti e indietro nel frattempo si stanno colpendo vabbè con lo beauty allora che fai i fucili li teni fermi così li mi rie verso uno dopo giochiamo un po' con lo beauty no che fa schifo kingsfield si bene andiamo su kingsfield anche subito ok bene andiamo facciamo la diretta facciamo registriamo kingsfield col telefono ah comunque non c'è per pc no però c'è un modo per registrarlo nella ps2 su serio? e come? per 100 euro di come si chiama? 100 100 euro di emulatore? no c'è un come si chiama? game game recorder in pratica e quanto sono 100 euro? 100 euro ci prende il gioco è un gioco molto vecchio il Trisnon l'avo di Dacius ragazzi nel lontano 2002 madonna quanto ci abbiamo giocato ricordi? oh vinto guardate qua che non riuscivo ad accedere alla palestra e noi eravamo in piedi come dei coglioni in mezzo alla gente e noi quindi guardavamo se c'è altra gente state lontani dalla mia palestra era bellissimo perché loro gli hanno seguiti uno col telefono valla a picchiare si dicevamo e qua si è ricandato gioco che cazzo e non partiva più e che succede? glielo acciolano subito e noi eravamo lì a controllare in giro chi l'ha fatto? chi ha acciolato la palestra di Chris? avevo buttato giù il telefono cercavo chi è stato chiunque col telefono chiunque che stia guardando c'era un marocchino e poi più a sinistra ho indicato un marocchino col telefono in mano io eravamo tipo sei giocando al pokemon go? fuori dalle mie palestra ah qua mi lasciò Zubat PL10 è come dire è come dire darci uno su livello 1 che è 0 di porta ecco non ci è ingannato tutto il premo non va i server sono fatti bene e poi il miglior server di sempre ho premio oscar che trovo più divertente guardare il tappeto che ho in cucina piuttosto che il gameplay di questo gioco qua è rimasto la parola go per mezz'ora sullo schermo ma va via va via certo che ho portato in cucina il cane eh cercavo di non inquadriere la gente il più possibile ma passavano e cosa dovevo fare? tra l'altro non stai neanche vedendo che stai facendo appunto perché fa te che non stai neanche come a te e metti anche il dito davanti a te hai vinto intanto ho vinto oh conquistiamo la palestra finalmente indovinate quanto è durata esatto non è fatta che tu pategana nutria e qua ho messo dov'è la nutria? eh no è piovante dopo ti faccio ecco noi adesso dovevamo andare a destra se non vado errato ossia a destra ecco abbiamo trovato un marocchino l'ho indicato è lui che ti ha ciullato la palestra vendetta quindi te l'hanno ciullata? no non ho ancora una rossa sono io aspetta no vediamo se esco in quadri a inquadrieri vabbè quando parlo male ecco qua c'è il topo qua c'è il topo guarda pategana me ne sono andato perché no non la catturo e ho soldato qualche pokemon perché non catturo pategana e né piccioni ma sto piccione ho dovuto catturarlo peccato vabbè adesso dovrebbe arrivare la segnalazione di ero per cercare la palestra giusto? eh forse se mi giro si eh la mia è durata poco quella che me l'ha conquistata gliel'ha ciullata subito eh sì è una guerra di trincea lì di trincea e noi pensavo che fosse stato un marocchino a nostra sinistra di averci l'ha rubata e magari è stato anche lui che ne sai che fai se l'ha fatta? vai come l'hai fatta a sapere che te l'avevano ciullata? se tu sei il team rosso e la palestra è diventata team giallo qualcosa non va ah ma allora vieni quadrata adesso li inquadrano li inquadri eh aspetta ma ah qua è giusto e c'era una macchina che andava in retromarcia ah sì e io e lì dicevo aspetta ma sei in retromarcia che dovevo fare? ecco visto che si è l'ha ciullata è l'ha ciullata giallo guardate ora beh è tipo ma aspetta se quando va normale mi tiri indietro quando vai in retromarcia mi butti in mezzo alla strada ecco ragazzi vedete qui c'è ora la palestra la chiesa della nostra città lì vicino c'è il capo palestra è prete ragazzi lo vado conmo tutto a tre volte ma mi sa che c'era un bimbetto lì ogni volta che io vincevo tenevamo d'occhio e io mettevo su un pochino alla nostra sinistra quando siamo arrivati verso la piazza c'era c'era un gruppo di ragazzi che ha detto sono in superiorità anima e ricca dobbiamo andarcene e poi ho detto il tuo chiesa non ti salverà nella vita reale che team sei il team rocket e poi gli mani e gli freghi tutto lascia perdere non puoi capire perché mi stanno chiamando non me ne frega niente chi era quella lì? eh non mi ho sconosciuto non te lo posso dire avevo letto mepre mepre madre ah mepre basta incatrarmi chi ero lì che mi faceva il cazzo di mea di take this quanto ti manca? ma scusa io ti ho guardato la faccia e no puoi stare contento qua l'ho battuto no ah no pensavo fosse io questo qua cazzo tutto contento dai che l'ho battuto ah no sono un altro no 27 vabbè tra poco pensire perché stiamo stiamo zitti mentre sto conquistando una palestra io voglio non mi piace il fatto non mi piace il fatto che mi hai ripreso se lo sapevo mettevo in perché ero lì perché io ero perché ero tutto sudato e io? perché io ero lì sudato ero lì stufo raffiappo se sapevo che mi riprendevi mettevo quei muscoli in posto se ne vi sarebbe il best ok adesso Solere Solere ha vinto ho vinto grazie a Solere ok ho un premio guarda soldi magari sì e per l'ennesima volta ho dovuto ricombattervi e qua ho dovuto qua ho perso quale è stata tipo è una tutta guerra di logoramenti ragazzi come si chiama sto Pokémon Golduck Golduck sì è brutto lo so bruttissimo è un non lo so una papera riprendimi la faccia questa volta già che c'eri sì sì potevo però Solere la sta prendendo guarda si vede la mia faccia ma doveva c'è sull'altro Solere l'ha preso e le ha prese gli arrivano messaggi da Whatsapp ma non si legge chi la madre gente che passa oh Solere rosa fulmini azzeccatissimo eh no me lo sta dando tanto anche guarda lui perde uno io perdo 30 fai di che 316 adesso qua nutria nutria dai con la nutria dai con la nutria ha one shottato la sua nutria quasi aspetta aspetta l'ho ucciso l'ho ucciso no l'ho ucciso la nutria però chi c'è un altro eh guardate ora come lo one shot a sto qua nutria usa forza niente nessuna affermazione fu più ozzegata ma non è finita aspetta quanto è che me l'havano shotta quasi quasi no no mi sembra che di timon ci usi passi un altro bokehman ah si pantegana aspetta no apemaya ah no era un altro invece eh no no questo qua questo qua è durato anche abbastanza poco non gli ho fatto niente però è durato abbastanza eh apemaya azzeccato sai che devi perdere eh lo so ma non mi piace il fatto che si stanno inquadrati il mio corpo ma che due traballe ho inquadrato una scatola con le scarpe con le braccia cosa vuoi di più una scatola con le scarpe con le braccia con una scatola perchè sei tu una scatola perchè sei una scatola e avevi la maglia via gialla rettangolare ah per serio? quasi perchè rettangolare? che ne so eri rettangolare eri rettangolare con un cerchio bianco in centro ecco la pantegana che venne una shotata ecco la pantegana che venne una shotata ah no non venne una shotata quasi quasi me la quasi una shotata guardate quel pinstile quanto è incazzato aspetta ma ah no qua lo one shot guardate one ma bello che non aveva un cazzo di vita ormai l'avevo ucciso l'avevo ucciso ormai ah bene qua qua ritirata strategica me ne sono dovuto andare quello ce ne siamo andati scorrendo via via non possiamo fare più niente ormai scappa e che scappa non me ne frega niente ma risponde tu male mentre sto registrando si bravo che sente anche lei l'avevo ucciso pantegana nutria pigiotto pigiotto è il nome originale abemaia abemaia no solere no sei strappieno di pigiotto lo so perché sono soliti ah no come l'ho detto dodri o fanno schifo madonna mia cancellali subito eh sì l'ha preso guarda che era tipo però dimmi te la differenza tra pantegana e nutria allora pantegana sono i sono i no si la so sono i topi grandi a venezia le nutria sono quelle da quei denti di merda io ho dato a underter un mio amico che è il nostro amico me l'hai già detto in un altro video e lui aveva scambiato il finale quello lì che c'è ci sono due finali in modalità pace il primo che Asgore muore il secondo che ricarichi e vai a picchiare flowy lui pensava che il primo finale fosse il finale del gioco madonna mia delicato proprio hai capito tutto della trama che poi lui fa questo un alberghiero l'alberghiero ragazzi ascoltano mister bin l'alberghiero della nostra città girano battute guardate questa gira è più fiera di tutte ma l'alberghiero che ha un nome ma non lo possiamo dire l'alberghiero che ti insegna a leggere e a scrivere e la risposta è stata se non lo sai già fare sì altrimenti se non lo sai se lo sai già fare no altrimenti te lo insegnano cioè loro quando lo erano cioè loro madonna mia non è inglese quello che stanno facendo è una lingua del tutto casuale the pen is on the table mezzo dialetto mezzo inglese the pen is on the table ripetete com'è the pen is on the table è sbagliato dimmi tutta la storia dell'inghilterra in inglese senza mai fermarti a ragionare un misero secondo a loro ripetete the pen is on the table stiamo andando ora stiamo sputtanando ok spettiamo qua stiamo tornando a casa e vabbè no 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 c'è il piccione c'è il piccione c'è il piccione i sandali ti ammazza non avevo voglia di mettermi a scala no vabbè se ti mettevi anche i calzini sui sandali ti uccidevo la stile è crocchi eh già non lo fanno veramente? crocchi si non lo vedi in giro mi salva il padre d'autismo conquistiamo fiume vaffanculo ok dai fine qua fine qua si si poi qua ci si divide ragazzi aspettate un attimo qui si ci divide qui guarda la strada più avanti Chris girava a sinistra andava a casa sua io andavo a destra a casa mia a cambiarmi che lo stasso ma non c'è niente e poi siamo tornati qua a salutarci allora non credo che ne faremo altri ma se volete che li facciamo scrivericelo nei commenti ok così potete vedere altri inesabili pezzi di Mr.L come ad esempio il suo braccio destro la sua gaffe siccome i Chris ne inquadrano anzi inquadriamo i Chris eh magari sono io che ho il gioco tu no? come faccio l'auto inquadrano? sarò mica stupido vai a uno specchio cavallino uno specchio no niente stavo pensando niente ok basta così basta a quanto ci siamo di video? 35 minuti? vabbè tanto è 39 vabbè ora Gesi Veda come finisco ciao a tutti